Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto è prima apparizione. Ricordo ai nostri telespettatori che possono contattarci o inviandoci un messaggio su WhatsApp al 338 49 68 250 oppure potete intervenire anche in diretta sempre al numero che vedete in sovrimpressione 0721 86 14 33. Nonostante l'allerta meteo sindaco oggi le scuole da voi sono rimaste regolarmente aperte, neve e pioggia hanno provocato disagi? Beh, in un territorio grande come il nostro sì, è facile che qualche disagio ci sia perché amo sempre ricordare che Cagli è il terzo comune più vasto delle marche, che è una superficie di 226 chilometri quadrati, poco meno, insomma, qualche, così, un campo sportivo meno di Urbino. E poi al primo posto lo troviamo nelle Marche Fabriano. Quindi è chiaro che in un paese così vasto, poi dove la densità di popolazione è di circa 37 persone al chilometro quadrato, è chiaro che le difficoltà ci sono. Ed è anche difficile prendere decisioni che possano accontentare tutti. Praticamente è impossibile perché oggi a Cagli c'erano delle zone dove non c'era neve per niente, alcune zone ce n'era 25 centimetri. Come è giusto che tutti gli studenti siano trattati uguali, però è chiaro che sono dei nuclei che abitano in posizioni dove è più difficile raggiungerli. Noi comunque anche oggi abbiamo monitorato la situazione, già da ieri sera e tutta questa notte i nostri pulmini potevano girare in sicurezza e quindi abbiamo ritenuto come altri paesi con cui collaboriamo, con cui siamo sempre in contatto, con Cantiano, con Acqualagna, con Apecchio, ma con lo stesso Frontone e Serra Sant'Amboglio che hanno preso una scelta diversa. Però insomma siamo sempre in contatto e prendiamo scelte cercando di essere il più possibile vicini all'esigenza della maggioranza della gente. Rimaniamo a parlare di viabilità e di disagi parlando della frana di Pianello. La frana è stata arginata, qual è la situazione? Sì, tengo a precisare che la frana di Pianello è venuta nella strada che è provinciale, ma questo non significa niente perché anche con la provincia abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione. Però la competenza in quel caso era loro. Sì, la frana adesso è sotto controllo, sono intervenuti perché l'hanno ritenuta subito una cosa molto seria. Devo fare i complimenti all'ingegner Primavera perché la prima telefonata che gli ho fatto dopo un'ora e mezzo che era venuta la frana mi ha dato dei tempi e li ha mantenuti. Insomma mi ha detto Alberto è una cosa seria, dobbiamo chiamare una ditta che ci faccia delle votazioni importanti. E così è stato, ha detto riapriremo verso il 2-3 gennaio, hanno riaperto il 2-3 gennaio, hanno messo delle reti, adesso hanno messo anche delle protezioni in fondo alla strada. Credo che stiano ultimando lo studio per poter approdare una soluzione definitiva e togliere anche il senso unico alternato. Immagino che anche la chiusura della Galleria del Furlo abbia provocato in questo caso disagi alla popolazione tutta, perché comunque è un collegamento importante. Per noi la Via Flaminia è importantissima, sia la vecchia per fini turistici, che sia la nuova, quella che in gran parte ha quattro corsie, che per noi è la vita, perché per noi è l'arteria stradale più importante, chiaramente per quello che riguarda sicuramente Acqualagna, per quello che riguarda Cagli, per quello che riguarda Cantiano. E quindi siamo estremamente legati a questa strada. Durante il mio primo mandato abbiamo avuto la fortuna insieme al sindaco Pierotti e al grande Daniele Tagliolini, abbiamo avuto la fortuna di essere i tre sindaci, che hanno avuto i contatti con l'ANAS e abbiamo lavorato insieme e siamo riusciti a riconsegnare la Flaminia all'ANAS, quindi a una società importante che può garantire quella manutenzione, può garantire un futuro degno di tale strada. Andrebbe valorizzata? Sì, ci sono alcuni tratti, tipo quello che passa a Cagli, che ha già una predisposizione per le quattro corsie, andrebbe terminata forse, un discorso che andrebbe ripreso, che si è abbandonato per 50-60 anni, ma che andrebbe ripreso, perché potrebbe costituire insieme a una costruzione tra Cantiano e Gubbio di una nuova galleria, di un nuovo tratto stradale, magari anche più basso, che veramente con pochi chilometri di lavoro, credo che Fano sarebbe a Roma in due ore, due ore e un quarto, poco più, insomma, perché già in Umbria stanno lavorando bene, e se noi riuscissimo a essere incisivi qui, in questo tratto, veramente, insomma, collegare Fano da Roma è una cosa importante, collegarlo velocemente, fermo estando che dico sempre che questi sono discorsi che chiaramente territoriali, e andrebbero, vanno messi in un sistema più ampio, perché serve anche la Fano Grosseto, servono altri collegamenti, serve l'Intervalliva, la Pedemontana, per noi è altrettanto vitale, come strada di collegamento con l'altra vallata, come altri sindaci, chiaramente hanno altre esigenze. Ci vorrebbe un coordinamento forte, un coordinamento finalmente decisivo, che sappia prendere, appunto, delle decisioni da trasmettere a chi è più in alto di noi, ma in maniera serena, tenendo un po' conto di tutti, ma tenendo anche conto che le strade devono essere principalmente sicure, anche quelle che non sono a quattro corsie, ma sono a due corsie, se hanno un buon fondo stradale, già vale tanto, perché abbiamo gli esempi del nord, delle Dolomiti, che non ci sono superstrade, autostrade, sono strade normali, per raggiungere le mete più belle, gli ultimi 30 chilometri, sono anche le curve, però magari con un fondo stradale importante, ben manutentato, insomma, ti dà quella sicurezza, e ti dà anche quel piacere di viaggiare a andature più basse, e ammirare il territorio. E' un paesaggio. A proposito di strade, di vicinanza tra territori, a quale ospedale fate riferimento? Beh, il nostro ospedale di riferimento è Urbino, chiaramente, abbiamo anche Pergola, che è, insomma, diciamo una costola di Urbino, che è a 20 chilometri, però l'ospedale è sempre di riferimento, è da sempre, da quando purtroppo, dal 99 l'ospedale di Cagli ha chiuso, Ma ci sono servizi sufficienti? Ha iniziato questo suo smantellamento? No, non ci sono, infatti, si parla tanto delle strutture, si parla tanto, giustamente, che le strutture devono essere sicure, quelle che ci sono, e questo, anche lui, insomma, questa giunta regionale ci sta lavorando, approfittando anche di questa grande occasione che si chiama PNRR, però quello che è importante sono i servizi, io lo dico sempre, sono i servizi e sono quei servizi che servono calati nelle realtà che viviamo, qui parliamo sempre di un territorio molto ampio, molto vasto, quindi dobbiamo pensare prima di tutto all'emergenza e urgenza, è la cosa fondamentale, noi dobbiamo arrivare il prima possibile dal paziente, dobbiamo salvarlo prima di tutto, stabilizzarlo, che è la cosa che qui è sicuramente più difficile, perché come ti dicevo prima, Simona, siamo in un territorio dove mediamente abbiamo nuclei familiari sparpagliati in un territorio vastissimo, quello che ho detto per Cagli vale per Cantiano, vale per Apecchio, Apecchio e Cantiano credo che abbiano la stessa metratura di Pesano, quindi parliamo sicuramente di situazioni dove dobbiamo andare a prendere il paziente, poi un'altra considerazione da fare che per adesso i nostri paesi continuano ad essere paesi che hanno il 30% di una popolazione superiore ai 67-68 anni, quindi dobbiamo tenere anche conto di questo, quindi grande prevenzione e soprattutto posti vicini dove poter per almeno alcuni giorni collocare i pazienti senza dover riportare per forza di cose a Urbino, a Pesaro o a Fano, intasare centri che potrebbero invece, o Ancona potrebbero diventare delle eccellenze per qualcos'altro, quindi una sanità da rivedere, una sanità da studiare insieme ai territori, soprattutto ascoltando le esigenze dei sindaci, io questo lo dico sempre e invece purtroppo faccio l'amministratore, capisco anche chi è sopra di noi, che spesso non hanno nel tempo e invece bisogna fare uno sforzo, bisogna coinvolgere senza meno i territori. Anche perché la tempestività spesso fa la differenza. Esatto, bisogna coinvolgere i territori perché da lì partono le idee giuste perché conosciamo i nostri territori e conosciamo le esigenze. Ci sono anche strutture private convenzionate? Sì, noi abbiamo il Santo Stefano convenzionato, dove ci sono dei posti di lungo decenza e altri servizi, ecco, però i servizi, fondamentalisti servizi, è fondamentale avere un, una volta si chiamava pronto soccorso, chiamiamolo come ci pare, però un punto dove, insomma, poterti stabilizzare in qualche modo e poi mandarti a destinazione. Oggi in un'ora si raggiunge, no, con l'anicottero vai dove vuoi, quindi non è il problema del dopo, il problema è la stabilizzazione o il primo intervento. Dal dopoguerra ad oggi la popolazione è praticamente dimezzata nel vostro territorio. In base ai dati del Servizio Demografico Comunale dagli 8156 al 31 dicembre del 2021 siete passati agli 8054, quindi circa 100 unità in meno. Crede che anche questo sistema sanitario abbia influito. Guarda, dovrei dire di no, dovrei dire che sì, è così, è protestare, però sono molto, io voglio essere, ecco, ho cercato sempre di essere un sindaco autorevole, non autoritario di quello che è detta legge perché ha la fascia e comanda, no, cerco di studiare, cerco di capire. Vedo Urbino all'ospedale, noi siamo, negli ultimi sette anni, Cagli è calato di 600 abitanti, Urbino è calato di 1.200, Pergola all'ospedale è calato quasi come Cagli, pur avendo 2-3.000 persone in meno. L'ospedale è importante, però se andiamo a vedere, da noi sono morti 148 persone, quest'anno a Cagli ne sono nati 38, la differenza è 110, è lì, che sono paesi dove nascono purtroppo poche persone, e la mortalità è alta perché grazie a Dio si vive molto e la mortalità è molto alta anche come media di età, non è che parliamo di giovani, muoiono tante tante persone che hanno più di 90 anni, grazie a Dio, nei nostri territori ci sono tante persone centenarie, quindi è quella. Noi dobbiamo puntare molto, questo chiaramente servono anche i servizi, non vada bene, servono le infrastrutture, però bisogna puntare sullo sviluppo economico, bisogna trovare posti di lavoro e bisogna incentivare a... ma non a rimanere qui, perché la gente tutto sommato rimane, quel gap che è derivato dalle nascite e dalle morti, ma trovare la voglia di rifare i figli, trovare la voglia di rifare le famiglie. Magari anche con incentivi. Assolutamente. Parliamo anche di tasse, i mutari sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno? Ci sono stati degli aumenti in questi ultimi anni, periodi? L'Imu sono, credo, 8 anni che è invariata. Sappiamo che l'Imu va a percentuale e la percentuale massima è del 10,6% applicabile. Cagli sta applicando da sempre il 9,4% che in termini di così, di moneta, visto che ogni decimale a Cagli vale sui 20.000 euro vuol dire che ogni anno l'amministrazione riesce a non pesare per 240.000 euro ai propri cittadini, che moltiplicati per gli 8 anni del mio mandato, insomma, sono quasi 2 milioni d'euro che non sono bruscoline. A volte questo discorso delle tasse non viene ben capito, ma ribadisco, sono 240.000 euro all'anno, grazie al non aumento dell'Imu. E Cagli è uno tra i paesi che riesce a tenerlo basso. Per quello che riguarda la Tari, ancora stiamo aspettando il piano tarifario di quest'anno, quindi ti posso dire quello che abbiamo fatto l'anno scorso, perché è quello che cercheremo di replicare anche quest'anno nel bilancio. L'anno scorso siamo intervenuti con una cifra importante, mi sembra, sui 143.000 euro, destinati 15.000 euro, in aiuto alle famiglie con l'ISEE più basso di 12.000 euro, con l'ISEE inferiore di 12.000 euro, siamo riusciti a contentare ed aiutare sui 120 nuclei familiari, dandogli dei contributi che vanno dalle 136 euro ai 220, che vuol dire aver dimensato e oltre la Tari per tante famiglie, che è importante. Poi siamo intervenuti sugli aumenti ISTAT, su quegli aumenti che c'erano stati che andavano a incidere sulla tariffa, anche lì per circa 68.000 euro, e quindi anche lì non siamo andati ad aggravare i cittadini, e abbiamo messo ulteriori 60.000 euro a sostegno di quelle attività che erano state nei primi anni aiutate dallo Stato, attività che avevano subito dei danni col Covid, quelle un po' più tartassate, tipo le discoteche, piscine, e li abbiamo aiutati attraverso un'iniezione di 60.000 euro, appunto, di aiuto. Senta, ma invece anche l'alluvione ha provocato danni al vostro territorio, magari non come alcuni comuni limitrofi, però, insomma, ci sono stati danni anche da voi. Sono stati danni diversi, sì. Cantiano è stato azzerato, il tessuto socio-economico, perché è entrato dentro il paese, il danno maggiore, distruggendo tantissime attività, tutte le attività economiche, praticamente. Cagli, invece, ha subito danni lungo il fiume, ha una decina di abitazioni, ha 3-4 attività economiche, però, insomma, ecco, sono purtroppo al sistema fognario, dobbiamo intervenire su quello, ha creato danni, adesso abbiamo un primo intervento, anche noi stiamo aspettando i soldi stanziati dallo Stato per ristorare le famiglie, per ristorare le aziende, in quello che gli spetta di diritto, secondo quello che sono state le direttive dello Stato e della Regione, poi, noi abbiamo racimolato sui 17 mila euro, ne abbiamo messi 8 mila e 5, ne abbiamo messi il Comune, 8 mila e 5 i cittadini, con delle donazioni, e li abbiamo divisi tra chi ha subito danni. E rinterverremo, stiamo studiando anche per intervenire adesso sul bilancio, anche sempre in soccorso. Ecco, questa è una foto che vediamo, Sindaco, riferita proprio all'alluvione, insomma. Sì, questa è una foto che è nella sede dell'Unione Montana, che ho l'onore di presiedere, Unione Montana del Cate del Nerone, dove insieme a Cagli c'è Acqualagni e Cantiano, c'è Santa Boglio, Frontone e Apecchio. E qui siamo insieme all'assessore Aguzza, al presidente Acquaroli, al vice commissario Babini, mi sembra, dove appunto spieghiamo un po' le nostre esigenze, perché chiaramente parliamo di comuni fragili, ma comuni anche piccolini, con pochissima, diciamo, da un punto di vista amministrativo, pochissimi dipendenti, e quindi, insomma, grande difficoltà a sostenere questo ritmo, perché poi tutto va fatto nell'immediato, va fatto con competenza, e nei comuni non c'è tutto questo, lo sappiamo benissimo, ma non c'è neanche nei grandi comuni, probabilmente. e quindi abbiamo chiesto al presidente Acquaroli che c'è, insomma, alcuni punti, in maniera molto serena e tranquilla, senza speculazioni politiche, ma veramente in totale sintonia. Speriamo che lo stiamo costruendo, perché dobbiamo dare risposte. Io dico sempre, i cittadini che hanno avuto danno, l'ideale sarebbe un ristoro immediato di un 30%, poi ci vorrebbe un 40% di quel danno che hanno subito attraverso il sistema bancario che è garantito magari dalla regione per quello che riguarda gli interessi, ma nell'arco di tre anni estinto poi dallo Stato. Quindi il 30% subito, un fondo perduto, un 40% attraverso degli aiuti che lo Stato risarcirà nei tre anni. Poi a quel punto io credo che qualsiasi cittadino che ha avuto danni un 20-30% lo metterebbe anche di tasca sua, perché ricostruisci un'azienda ex nuova, la modernizzi e quindi sono tutti guerrieri pronti a ripartire. Però un 70% bisogna che venga dato a fondo perduto e attraverso non so che forme non venga dato. Poi sono convinto che i nostri guerrieri veramente tirerebbero fuori tutta la grinta necessaria per sopperire a quel 30% mancante e mettere solo in tasca propria. Dover sopperire un 80-90% non credo che sarà possibile. Non è fattibile. Avete lavorato però in questi mesi a tanti progetti in particolare lavori pubblici. Partiamo dalle scuole. Ha fatto accenno all'inizio di questa diretta anche al PNRR siete riusciti a intercettare fondi in tal senso? Sì, siamo devo dire che i nostri territori purtroppo negli ultimi 40 anni vivono sulle disgrazie. Una volta è sull'alluvione, terremoto, il covid, il vento, la neve, il gelo, quindi però andiamo avanti va bene insomma. È brutto programmare sulla disgrazia ma sono più di volte andiamo avanti con queste con queste sommezioni, con questi soldi e infatti anche col PNRR che sappiamo da dove viene ci siamo messi giù, ci siamo messi a studiare, ci siamo messi a progettare, a programmare. Siamo riusciti a intercettare fondi importanti, il primo riguarda la scuola l'asilo nido, quindi l'abbattimento e la ricostruzione, siamo riusciti a intercettare un bando da 1.750.000 euro che ci permetterà di costruire a breve perché insomma entro maggio dobbiamo presentare il progetto quindi a fine agosto inizieranno i lavori, un asilo modernissimo, un asilo figo, veramente io ho visto il progetto è bellissimo, praticamente verrà a impatto zero con tanto di pompe di calore, tante illuminazione, tante vetrate, riscaldamento e anche raffreddamento a terra, veramente innovativo, veramente all'avanguardia che sarà un fiore all'occhiello per tutto il nostro territorio. Qual è la scadenza a tempistica? Tempistica te lo dico dobbiamo entro maggio giugno preparare presentare il progetto poi immediatamente subito appaltare i lavori noi vorremmo iniziare i lavori in agosto fine agosto immediatari da finire la colonia testiva a luglio iniziare subito i lavori immediatari il prossimo anno ad essere pronti con l'asilo fatto 12-13 mesi e finire l'asilo questo è il nostro sogno parallelamente c'è stato un finanziamento questo invece con i soldi del terremoto grazie alla regione di qualche anno fa per la scuola media di cui dovremmo avere anche un'immagine? un finanziamento questa è la vecchia scuola media dove siamo adesso un bellissimo insomma un bellissimo palazio e 3 milioni e 6 mi pare 3 milioni e 7 però qui abbiamo abbiamo scelto la delocalizzazione e quindi cercheremo andremo a farlo in un luogo dove ecco oggi non ci sarebbero stati problemi perché è all'uscita delle strade principali quindi senza dover andare dentro al paese o come sono le elementari ancora più su un cucuzzolo che è 100 metri più in su ma fa una gran differenza questi giorni di neve e quindi ecco ci stiamo disegnando una Cagli fatta con le scuole diciamo leggermente fuori dal centro storico vicino alle arterie e viare più importanti e accessibili con parcheggi tutto quello che è giusto che si abbia messo al primo punto la sicurezza dei ragazzi chiaro prendendo l'impegno però che quelle strutture che verranno abbandonate devono essere sostituite con altrettante attività che siano vita anche per il centro storico e anche in questo caso ci sono delle scadenze anche in questo caso ci sono delle scadenze impellenti sì lavori e progetti serrati poi molte abbiamo avuto perdere 500 mila euro attraverso il PNR sempre per l'efficientamento energetico del teatro un intervento molto importante noi abbiamo un bellissimo teatro spero tanto avrete sicuramente delle immagini del nostro teatro un teatro che tiene 500 posti un bel gioiellino sì una grandissima fortuna per i nostri territori avere un gioiello così altrettanta fortuna e bravura anche con un po' di ambizione anche da parte dell'amministrazione di aver intercettato Sandro Pascucci il nostro direttore che da ormai da 8-9 anni con noi e che ha portato il teatro di Cagliari ad avere delle stagioni entusiasmanti prima del covid eravamo arrivati ad avere 35-40 spettacoli all'anno dove la media era di 12-13-14 tutto esaurito dove la media era di 250-300 presenze quindi praticamente il teatro stava sostituendo il cinema una volta a settimana tu sapevi che c'era il tuo spettacolo con un'offerta importante perché cominciavamo ad andare dall'operetta ai cantautori alla musica qualche spettacolo per i ragazzi che hanno risposto sempre bene questo è stato di grande soddisfazione quindi sì teatro adesso resterà chiuso qualche mese ma per ritornare ancora più importante di prima ecco lì ci stavano degli interventi sul tetto ma anche come diceva lì prima per cercare poi un domani di portare anche ad un risparmio certo sicuro guarda tutti gli interventi io sono uno di quelli che dice bisogna farle le spese non bisogna spendere per forza non mi piace spendere per forza perché a volte a volte spesso se guardiamo il passato lo spendere per forza perché avevi di soldi ha portato dei danni a costruire delle infrastrutture che poi non siamo riusciti a mantenere allora l'infrastruttura che vai a fare quello che vai dove vai a intervenire tu devi fare dei progetti che siano sostenibili innanzitutto dal punto di vista dell'ambiente della natura questo è fondamentale per i nostri territori perché grazie a Dio io sono convintissimo che noi vivremo e dobbiamo vivere grazie al nostro ambiente oltre che alle grandi realtà che abbiamo anche industriali che poi spero che dopo di cui potremo parlare ma dobbiamo vivere con il nostro ambiente quindi dobbiamo rispettare quindi i progetti devono essere sostenibili dal punto di vista ambientale e sostenibili dal punto di vista economico possono essere solvenzionati un anno due anni ma poi devono e l'efficientamento energetico noi paghiamo ancora delle bollette altissime con questi interventi anche se grazie a Dio questi sono a fondo perduto ma anche se dovesse essere stati prodotti e finanziati internamente con un mutuo tu il mutuo te lo paghi con quello che risparmi attraverso l'efficientamento energetico sindaco tra poco torneremo a parlare di asfalti illuminazione pubblica cultura eventi ma ci dobbiamo fermare per qualche istante di pubblicità a tra poco siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Cagli iniziamo questa seconda parte della puntata parlando di asfalti perché avete investito molto con il bilancio comunale con le risorse proprie di bilancio anche sulla sicurezza appunto stradale certo questo parte soprattutto anche dalla nostra idea che abbiamo di Cagli che è quella di confermare tutte le attività e cercare per quello che può fare un ministero di aiutare le attività che ci sono le tante attività industriali le tante imprese che ci sono ma anche di dargli un taglio turistico quindi dandogli questo taglio turistico cercando di trovare sviluppo economico attraverso il turismo attraverso la cultura è chiaro che mettere a posto le strade è una cosa importantissima grazie a Dio noi abbiamo tante strutture ricettive sparse per il territorio che fino adesso insomma hanno lottato quasi da sole hanno creato un buonissimo livello e gli devo ringraziare tutti perché veramente hanno lavorato in pessime condizioni ma sono cresciute tantissimo l'amministrazione deve fare questo sforzo lo stiamo facendo adesso per quello che riguarda le strade Caglia è circa 400 km di strade quindi vuol dire andare tutti i giorni da Caglia a Milano e pulire che non è proprio semplice e questi 400 km di strade noi li stiamo sistemando sia quelle di breccia sia quelle appunto in asfalto perché sono il punto di partenza per poter poi parlare e organizzare turismo e quindi ecco stiamo facendo un grandissimo sforzo l'abbiamo fatto nei due anni passati lo faremo quest'anno con ancora più iniezioni di denaro perché vogliamo concludere appunto entro il maggio del 2024 un po' tutto il giro di queste strade e che sono appunto il primo passo insieme a tanti altri che stiamo facendo parallelamente per creare e per poter essere attrattivi rimaniamo in strada perché abbiamo delle foto che riguardano l'inaugurazione dell'intitolazione della via Cariaggi Cariaggi fu il fondatore nel 58 dell'omonimo lanificio quando è avvenuto il taglio del nastro Sindaco? Ma questo è avvenuto pochi giorni fa è stato un momento questo è una foto con i titolari di adesso insomma il Pier Giorgio figlio di Aurelio noi abbiamo intitolato appunto al babbo Aurelio è stato un momento molto bello è stato particolare perché tante famiglie poi vivono grazie circa 300 ecco questo spesso si ha difficoltà per dei piccoli sindaci come siamo noi per delle città sì importanti come Cagli ma insomma avere a che fare con quello che è diventato un colosso perché Cariaggi è diventato un colosso nel suo settore quest'anno guarda sono contento poi che mi fai ecco di questa foto perché è l'anno del record perché sono arrivati a 142 milioni di euro di fatturato l'anno scorso ne avevano fatto 113 quindi un aumento del 25% in un momento del genere dici perché perché hanno investito tanto hanno investito in tecnologia modernizzazione quindi anche diciamo gli stessi operai che ci sono ora sono coagliuvati tantissimo dalla tecnica dai macchinari sempre più precisi sempre più perfetti grazie anche al lavoro dei figli di 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 Pier Giorgio che sono parte sia Marco che Cristiana che seguono due settori totalmente diversi ma che sono parte importante in questa in questa azienda e possiamo lo dicono loro quindi quando insomma il titolare molto entusiasta e mi piace questo insomma dice che siamo diventati leader mondiali in questo settore ecco per quello che riguarda la fiatura insomma è una cosa molto molto bella che si riempie di orgoglio e si riferisce a un mercato ormai mondiale ti faccio un esempio per capire quanto sia complicato e quanto sia particolare questo mondo ci ha fatto vedere in un tour che abbiamo fatto nella sua azienda da pochi appunto il giorno dell'inaugurazione ci hanno fatto una rocchetta un filato non so se pesava mezzo chilo forse ci arrivava forse no ma non credo era lungo 200 chilometri ma una cosa pazzesca una cosa pazzesca e quindi vuol dire che insomma lo studio è arrivato a livelli infinitesimi è una cosa bellissima ed è per noi è una grande è una grande responsabilità avere Cariaggi a Caglia adesso perché insomma dobbiamo essere all'altezza quindi è un impegno che come amministrazione dobbiamo ricordare ogni giorno perché poi insomma ecco come dicevi te permette a 300 famiglie data anche la puntualità dei pagamenti non è cosa da poco insomma permette a 300 famiglie di pianificare la propria vita che in un momento del genere non è per niente facile è un'azienda molto attenta alla famiglia alle esigenze della famiglia alle esigenze dei giovani da tanti anni sponsorizza un corso di inglese nelle varie scuole quindi è legata anche a quest'anno intervenuta in maniera molto pesante senza dire la cifra ma è nota con l'alluvione per il comune di Cantiano perché giustamente era quello che andava aiutato subito con un'iniezione importante so che quest'anno una quota che si aggira attorno ai 90-100 mila euro degli utili andrà destinata tra i dipendenti quindi un'altra cosa anche come sotto forma di riconoscimento in più molto molto bella e quindi ecco è un grande vanto per noi ma è un grande impegno perché è una ditta mondiale quindi insomma dobbiamo stargli dietro anzi al fianco e in qualche modo partire proprio dal territorio per farla apprezzare a tutti al pari ecco ci sono tante altre attività Cagli che lavorano bene che lavorano specialmente nella meccanica di precisione per noi molto molto importante magari in un'altra occasione avremo modo di menzionare anche loro perché insomma anche l'artigianato ne parlavamo prima di andare in onda quindi tanti settori che caratterizzano anche il territorio di Cagli cambiamo argomento parliamo di illuminazione pubblica perché voi avete fatto una scelta ben precisa e anche diversa rispetto ad altri comuni perché l'avete data in gestione sì noi abbiamo fatto un project appena arrivati abbiamo scelto questa strada perché perché nei comuni nel discorso che ti facevo prima non sempre hai tutta la struttura per poter seguire bene le cose e quindi abbiamo qualcosa abbiamo dato in esterno questa è stata data in esterno praticamente noi per nove anni paghiamo un affitto che è pari allo storico di quello che pagavamo come bolletta quindi mettiamo la cifra 300.000 euro i comuni di Cagli per nove anni paga questa cifra a una ditta che nel frattempo questa ditta mette a norma fa un investimento di circa 8-900.000 euro ammodernizza tutto chiaramente tutte le luci le led tutto quello che è di norma e poi al fine la scadenza che dovrebbe venire credo tra un anno e mezzo due non di più mi sembra perché è un atto che abbiamo fatto subito appena l'eletti quindi la prima volta l'avremmo fatto credo 2015 o giù di lì insomma ci consegneranno un'illuminazione a norma che dovrebbe avere una durata ancora di diversi anni quindi con una bolletta più bassa da pagare e quindi con dei risparmi nella spesa corrente invece invece nel centro storico che tipo di lavori volete eseguire si parla di una pavimentazione anche proprio del centro sì abbiamo alcune cose stiamo facendo dovevamo iniziare oggi il rifacimento della piazza quella piazza Nicolo IV detta anche la piazza del teatro sostituendo il materiale che c'è adesso con un nuovo con un nuovo materiale che sarà poi tutto insomma l'iter in tutto il centro storico perché abbiamo questo porfido piccolino che è un mezzo falso storico che non ci azzecca niente con i nostri territori credo che cent'anni fa all'incirca non so probabilmente era un'esigenza e insomma hanno riempito tanti centri storici con questo porfido che in verità ci azzecca poco e quindi inizieremo con piazza del teatro e proseguiremo per tante vie nel frattempo faremo delle riunioni inizieremo a breve ci sarà una conferenza stampa adesso i primi di febbraio per lo studio insomma del centro storico per lo studio anche poi della viabilità per alcune cose importanti perché come ti dicevo prima bisogna spendere i soldi sì ma bisogna fare delle cose giuste e poi il centro storico di Cagli con vanto ti posso dire che è un centro storico importante tra i più importanti delle marche e quindi va rispettato ne stiamo parlando da tanto ma dobbiamo studiarlo lo stiamo facendo con l'università Politecnica delle Marche Politecnica delle Marche che ci ha così accompagnato anche in un percorso importante nella valorizzazione del nostro museo arqueologico della via Flaminia insieme al nostro soccorso coverto il nostro la rocca martiniana al detto il torione dove abbiamo una mostra permanente di arte contemporanea con insomma con dei personaggi famosissimi iniziali dal nostro Elisio Martiaci che è stato lui tanti anni fa artefice di questa di questa iniziativa ma Nagasawa come Elis Icaro e altri personaggi importantissimi che danno veramente un grande lustro a questa mostra permanente di arte contemporanea insieme appunto al museo abbiamo costruito un polo che ci ha permesso di accedere a diversi fondi a diversi finanziamenti uno riguarda anche la città di Fano insieme al sindaco Serie abbiamo partecipato abbiamo vinto questo bando e che ci porterà alla nomina di un direttore di rete che quindi lavorerà per mettere in rete questi musei l'uno con l'altro e per creare una vera e propria destinazione turistica cioè portare il turismo attraverso questi musei un altro altrettanto importante che è un Erasmus che abbiamo iniziato un tempo fa dove qui invece Cagli è capofila di un virtual tour e di uno storytelling molto interessante siamo capofili insieme a dei partner internazionali europei anche con la fondazione Marche Cultura e con l'università appunto Politecnica delle Marche anche qui abbiamo intercettato sui 317 mila euro e ci permetterà di avere un curatore digitale che porti a termine tutte quelle iniziative che ne conseguono per anche qui mettere in rete e far conoscere il nostro museo e quindi chiaramente la storia di Caglia la storia di questi territori tante altre belle cose che riguardano anche altri piccoli interventi ma altrettanto importanti le nostre chiese Caglia ha tantissime chiese importanti quella più famosa è la Cappella Tiranni dove c'è il lavoro più importante di Giovanni Santi Babbo di Raffaello Sanzio insomma è l'opera più importante e quindi grande attrattiva grande meta di di turismo di visitatori ma insieme a tante altre opere nelle nostre bellissime nelle nostre bellissime chiese e a proposito di cultura turismo tradizioni ci sono anche diversi eventi che vi caratterizzano partiamo da Cagli che diciamo è la città del tartufo tutto l'anno anche questo può portare insomma del fungo tutto l'anno può portare dei visitatori può puntare appunto sul lato enogastronomico ecco qua vediamo l'evento del 26 di novembre quindi insomma puntate sulle vostre tipicità giustamente abbiamo iniziato un paio di anni fa poi due o tre anni fa poi il covid ci ha fermato un attimo volevamo fare un paio di anni di presentazione poi partire materialmente con una fiera con qualcosa di importante perché Cagli tu prima hai detto anche tartufo Cagli c'è tanto tartufo noi abbiamo la fortuna di avere la fiera d'acqualagna che è mondiale e benvenga e siamo tutti dediti a rafforzare questa leadership di acqualagna come fiera del tartufo pregiato ciò non toglie che tutti i nostri territori sono vocati al tartufo al fungo e sono quindi delle eccellenze che insieme dobbiamo portare avanti credo che sia il momento giusto insomma anche tra noi sindaci c'è molto accordo c'è molta consapevolezza prima di tutto di fare rete tra di noi perché insomma non ci dobbiamo far sfuggire queste grandi occasioni il fungo è importantissimo perché come dicevi te è tutto l'anno tutto l'anno vuol dire grande lavoro per i ristoranti sì ma anche tanto lavoro per le strutture ricettive perché la gente viene dobbiamo costruirci intorno quello che ci siamo detti in questi due anni teoricamente e quindi passeremo già credo dall'anno prossimo a qualcosa di molto più concreto perché insomma vogliamo rendere merito a quello che sta diventando un'eccellenza che è la nostra enogastronomia anzi eno-alo-gastronomia certo perché il mio assessore Cardellini se non si offende che lui è da pecchio quindi hanno la birra la birra è un altro gioiellino sono insomma conosciuti ormai in maniera internazionale con la birra e mi ricorda sempre eno-alo-gastronomia è preciso ma anche i giovani provano a contribuire comunque alla crescita anche dal punto di vista turistico della vostra comunità ci sono giovani attivi che partecipano magari che si vedono pure a teatro ci sono ci sono io ho la fortuna di venire dal mondo dello sport e ho allenato a pallacanestro tantissimi anni e insomma il giovane lo devi far giocare e questa è la nostra grande sfida il giovane lo devi far comandare lo devi lo devi far sbagliare io sono diventato sindaco nove anni fa ma non avevo studiato quindi insomma l'impatto è stato violento anche se ero più grande non ero più giovane però è stato violento e ho sbagliato penso per strada l'ho sbagliato tante volte continuerò anche a sbagliare spero perché poi lo sbaglio è il fondamento della crescita e ecco io sto cercando di creare un gruppo di di giovani ma sia anagraficamente sia anche di spirito perché poi ci vuole lo spirito giovane e Cagli credo che abbia una grande potenzialità in questo senso qua bisogna Cagli come tutto il territorio dell'Unione Montana e in generale di alte marche che questa questo marchio che ci siamo dati questa destinazione turistica che ci siamo dati insieme ad altri comuni credo che i nostri territori siano pieni di ragazzi che possono e hanno voglia di fare dobbiamo responsabilizzare dobbiamo dargli potere di decidere di fare e questo è un impegno che io cerco sempre di portare di portare avanti dobbiamo superare le divisioni ci stiamo lavorando io spero che si superi la lamentela che il piangere si addosso perché io la mia amministrazione è aperta è apertissima ricevo tantissima gente tutti i giorni non credo che ci sia una persona nei comunicati con la quale non abbia parlato poiché si è riuscita a contentarla o che quella persona mi abbia detto cose più o meno intelligenti è un'altra cosa però l'ascolto da parte di tutta l'amministrazione io mi sforzo anche a trasmetterlo questo ai miei colleghi e dobbiamo assolutamente lavorare con i giovani a proposito di giovani guardiamo insieme una foto che non è recente però appunto anche questo fa parte dell'aggregazione del gioco di squadra lo sport aiuta tanto i ragazzi certo lo sport aiuta tanto i ragazzi e non solo i ragazzi questa è una foto se non sbaglio della vittoria del campionato di serie C di calcetto quando è salita in serie B che è stato un momento entusiasmante perché insomma per una città come Cagli avere una squadra di calcetto in serie B è stata un'esperienza bellissima purtroppo siamo retrocessi adesso facciamo la C1 che è sempre un grandissimo valore sono secondi mi sembra in classifica quindi lottano nuovamente per salire di categoria e anche qui è stata una grande sorpresa è un grande stimolo per noi amministratori tant'è vero che ci stiamo adoperando per mettersi a pari con le infrastrutture perché insomma avere delle realtà così importanti fermo restando che c'è un bellissimo c'è un bellissimo palazzetto anche in Acqualagna e noi ne abbiamo usufruito nell'anno della B perché aveva diciamo le metrature giuste per poterci giocare non ti nascondo che 7 km sono niente e quindi dobbiamo anche abituarci a questo però è giusto anche che Cagli si metta al pari con le strutture su questo stiamo lavorando e su questo stiamo mettendo a terra i progetti che devono essere realizzati entro un anno un anno e mezzo al massimo Sindaco siamo in chiusura ma mi dicono dalla regia che ci sono ancora alcune foto che possiamo mostrare a casa anche perché ci guardano da tante altre parti del territorio non solo da Cagli e quindi ci piace raccontare questi splendidi territori qui parliamo di speleologia 3000 professionisti ed esperti attesi da oggi a Cagli che progetto c'è stato? più che un progetto c'è stato combattuto la testa è stata una pazzia una pazzia perché è un impegno che avevamo preso diversi mesi fa abbiamo partecipato a un bando regionale che la regione ci ha assegnato 35 mila euro su un progetto totale di 100 ecco qui ci sono gli organizzatori insieme al consigliere regionale Giacomo Rossi che ci ha dato una mano come sempre e insomma è stata una pazzia perché poi purtroppo è successo l'alluvione quindi noi abbiamo l'arena di Sant'Emilio che era la base di questo progetto completamente allagata e ci siamo dovuti reinventare un progetto dentro Cagli sapendo di procurare un po' di fastidio sicuramente a Rione che avrebbe dovuto ospitare la sede di questo evento siamo andati avanti è stata una sfida che credo non credo sono convinto alla fine ci ha visti vittoriosi è stato un grande impegno ti posso dire grosso da parte nostra dell'amministrazione ma anche da parte di questi ragazzi risorgenze che hanno fondato questa associazione Fabio Perfetti ragazzi di Fano un professore che adesso non mi torna il nome mi tornerà dopo di Urbino e insomma una serie di personaggi del nostro territorio che ci sono messi insieme e ci hanno guidato in questa bellissima bellissima avventura è stato è stato un viaggio entusiasmante mi ha fatto conoscere un ambiente che non conoscevo mi ha fatto conoscere tanta gente bella gente bella veramente che si lega con lo spirito dei nostri territori una bella esperienza anche di crescita molto 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 ed è una cosa da non abbandonare infatti stiamo Betti il professor Betti se non mi uccide la prossima volta scusi però ci ripensavo fino a che non le tornava in mente chiedo scusi perché veramente poi lui è stata una persona molto bella da conoscere particolare ma bella una bella persona hanno uno spirito che si adatta benissimo ai nostri territori e quindi si sono ripromessi di non perdere l'abitudine chiaramente non potremmo organizzare tutti gli anni nei nostri territori il raduno internazionale come era questo però ci siamo proposti per organizzare dei corsi con le scuole delle uscite è interessante di dare più solidità anche a incontri più piccoli magari ma di continuare questa avventura perché è stata entusiasmante poi ha portato 2000 persone in un periodo tra virgolette morto come in basta stagione rispetto a primi di dicembre insomma le nostre strutture sono esplose i nostri i nostri ristoranti hanno fatto incassi da vecchia data che non si vedevano più da 15-20 anni quindi grande entusiasmo andiamo avanti con la prossima foto che dovrebbe sì il ponte il ponte Maglio beh il ponte Maglio insieme al teatro insieme alla nostra prima al museo abbiamo detto le nostre chiese a tanto altro è un pezzo di storia è un ponte che porta tanto turismo è un ponte che va valorizzato anche qui ci stiamo ragionando come poterlo mettere a sistema perché insomma è di grande pregio e in più insomma fa parte appunto della storia di questi territori e ritorno a dire anche la via Flaminia insomma è importantissimo e poi la torre sì questo è dentro sì questa è la adesso non vedevo bene è una delle opere che abbiamo di arte contemporanea il nostro Torione Rocca Martignani costruita da Francesco Di Giorgio Martini un architetto che è quello insomma conosciuto anche tanto perché era un grandissimo architetto per quello che riguarda le strutture belliche insomma famoso nelle Marche in Umbria fino a Toscana questo è il soccorso coverto che inaugureremo a breve è un soccorso che conduce appunto dal Torione che era un avamposto fino alla alla rocca principale dove c'è la piazza d'armi e tutto oggetto di recupero già dalle precedenti amministrazioni un progetto importante a cui l'amministrazione tiene tanto perché poi è stato ereditato e va valorizzato perché è stata una bellissima intuizione e porterà appunto a scoprire attraverso questi 360 gradini di un soccorso che è già tutto a posto illuminato e percorribile che già i turisti ne stanno godendo ma verrà anche aperto e sopra ammirerai questa rocca recuperata in parte ma dove abbiamo intenzione di costruirci un centro studi di costruirci veramente un'attività importante di Francesco attraverso le sculture attraverso le opere di Francesco di Giorgio Martini collegandosi a quello che è il convento dei Cappuccini che a ridosso della della rocca è costruito tra altre cose rubando mattoni alla rocca anche lì una cosa stranissima insomma se la sono giocata tra due due successori insomma quello che è arrivato dopo ha voluto distruggerla per non lasciare traccia di quel lavoro fatto dal suo predecessore e anche nell'antichità quindi questi dispetti si facevano e quindi poi è stato tanto materiale è stato usato per costruire il convento dei frati Cappuccini su cui stiamo lavorando per costruire qualcosa di unico nelle nostre zone quindi è un'altra scommessa importante che a breve speriamo di poter mettere a terra e siamo curiosi anche poi di sapere gli sviluppi siamo in chiusura però una telespettatrice che vorrei accontentare ci scrive mi sono collegata da poco non so se il sindaco abbia parlato della scuola media di Cagli mi farebbe piacere sapere quando partiranno i lavori se possiamo dirlo nuovamente così che anche per chi è a casa può e che si è perso la prima parte della puntata purtroppo non sono fondi PNRR quindi hanno avuto un'iter un po' più lungo noi credo entro quest'anno no credo prendo l'impegno insomma entro quest'anno abbiamo già la ditta che ci fa il progetto e quindi la possiamo appaltare in qualsiasi momento stiamo aspettando la fine burocratico per l'acquisizione di un terreno quindi io credo che entro la fine di quest'anno appalteremo anche i lavori che inizieranno quindi i primi del prossimo anno è un'opera importante importante ci sarà anche una piccola palestra per loro ma sarà soprattutto spazio verde insomma e comodità Sindaco grazie per essere stato con noi speriamo di poter avere anche in un'altra puntata di Primo Cittadino per aggiornare anche sui concittadini su quello che accade nel vostro territorio e anche tutto il resto insomma della provincia di Pesero Urbino io vi ringrazio tantissimo sempre a disposizione e aiutateci a tenere alta l'attenzione sul discorso dell'alluvione perché abbiamo tanto bisogno oltre che l'aiuto della regione che arriverà e sta arrivando oltre che l'aiuto dello Stato che sta arrivando ma abbiamo anche tanta solidarietà perché poi la solidarietà della gente anche quei pochi soldi che si raccolgono però sono un'inizione di fiducia quotidiana che aiuta i nostri sindaci a continuare questa lotta e ai nostri cittadini ad avere fiducia nel futuro quindi tenete sempre riflettori puntati su Cantiano su Serra su Frontone su Pergola su Cagli e su tutti quelli che hanno avuto veramente danni con l'alluvione lo faremo senz'altro grazie per essere stato con noi grazie a voi grazie ancora al sindaco di Cagli Alberto Alessandri e noi invece ci rivediamo domani per l'informazione locale alle 7 in diretto con Massimo Foghetti poi la sera alle 20 e 30 il nostro telegiornale Occhio alla Notizia un ringraziamento anche alla regia Riccardo Sora e Cristiana Guerra grazie ancora e arrivederci domani Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti